Inizio che siamo tornati in noi, oggi stiamo giocando niente, perché oggi abbiamo fatto un challenge Dire sì per esempio maggiore, e quel sì lo dico io Perché questo qua, questo qua, questo qua mi ha consigliato il challenge e adesso sto per... Ok ragazzi, basta parlare, iniziamo il video Boom, raga, sono appena teletrasportato qua in un campo da calcio Non so dov'è ancora Abu, visto che non è ancora venuto Spero che non sia finito per strada la sua enderpearl, ma verifichiamo più tardi Nel frattempo che Abu viene, io cammino sul lago che si è formato Non so bene dove abbia lanciato la sua enderpearl Ma, Abu, ma cosa cazzo ci fai? Io te lo giuro, ho enderpearlato lì, un autobus mi stava per ammazzare Poi, ecco quello là, ecco quello là Te lo giuro, poi mi stava per ammazzare, ho fatto un'altra enderpearl A casa, tipo, è arrivato qua Ho finito qua, guarda la mia nuova casa Ok, visto che tu sei ancora vivo Io mi chiedo, ma te, nella tua tasca, hai dei soldi? It was at this moment that he knew, he fucked up No, no, eh, sì, sì, no Quanti soldi hai? Eh, forse dieci Eh, me li puoi prestare, cioè, me li puoi regalare Intanto, sto già alla risposta Tieni, sì Grazie Non ho mai visto Abu così generosa in tutta la mia vita Abu resterà qua, io vado a comprare qualcosa e ci vedremo più tardi Forse dopo due pacchetti di patatine Tranquillo, te ne porterò uno anche per te Grazie Non è vero Eh, buai Ne fa tempo, io mi sto dirigendo verso il negozio In cui io vado a comprare le patatine con i soldi di Abu Ah, è bello schiavizzare un tuo amico 2000 years later E' andato a fare la spesa, io sono qui Forse mi comprerà qualcosa Spero che mi compri qualcosa Lo so che non mi comprerà, perché è una persona di me Buongiorno Ehm Vediamo quello che possiamo prendere Prendo le roofless, le mie preferite Un sacco di gusto Uh, Milka, Oreo Tutte e due cose che a me piacciono un sacco Succo 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 Vediamo quello che posso prendere Tè la pesca o tè il limone? No, al limone Così faccio triggerare Abu or Aira Che non so quanti di voi lo sanno Ma non gli piace proprio tè al limone Prendo questa qui Ho cambiato idea Questo lo rilasco Ok Ok, grazie Ragazzi Ho appena fatto una spesettina possiamo dire Questi qui costavano due euro Ogni pacchetto Tè al limone A lui non lo piace Eh che cazzo Ok ragazzi Io sono qua con la spesa Costate 10 euro Oh eccolo là Eccolo là Guarda chi c'è Rimasto tutto il tempo da aspettare Vedi? Sono stato abbastanza gelo in rosso Ti ho comprato un pacco pure per te Veramente? Fai vedere 2.000 anni Later Ragazzi Siamo tipo pomeriggio E Abu Non voleva Venire a giocare A calcio Io l'ho portato lo stesso La nostra palla è sgonfia Però visto che lui Già lo sapete E tu puoi Fare il portiere per favore Io? Ok Bello Di avere un amico Che dice sempre di sì Ora Palla sgonfia Lui va in porta Che schifo Grazie a te Goal Tirato Faccio vedere il po' Del portiere Stiamo vedendo che lui c'è la palla E ci sta per tirare Siamo a 14 metri E vediamo Ok guarda Questo non è gol Ok Questo non va Questo non è gol Ogni volta che lo faccio Lui fa gol Oh puoi essere il portiere Ok pronto Senti lì c'è il coso Portangri Da qui inizio 3 2 1 Oh Dribbling Dribbling Non è vero Non è vero Goal 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 Ok ragazzi Un altro tiro Vediamo eh Stavolta Ehi sono pronto Incredibile Incredibile L'ha tirato 5 metri Fuori dalla porta Di vantaggio Ok ragazzi 3 gol Non c'è una partenza Ok No 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 Vediamo Anna se l'ho obeso Cosa può fare Solo qui c'è un po' di valore Non c'è un cacchio di tempo Ti sto dando tempo io Cos'è quello eh Oh Neymar di me Alzati Vuoi vedere il live video No Adesso facciamo vedere il librai Ce l'ho Facciamo vedere il librai Facciamo vedere il librai Facciamo vedere il replay Lui è stupido Guardate cosa ha fatto questo obese Guardate ragazzi Six box Six box Ho bisogno una cosa ora Aspettami Fair play Brucia qualche calorie Mi fumo l'erba guardate Fumore Stupido Obeso Obesi Obestrone Basta Ragazzi lui sarà sempre obeso Ogni like Lui andrà un'ora in palestra Vi metto anche foto Vi metto anche Dimmi Che tu devi dire sì Tutte quante le volte Mi regali il tuo telefono? Uno telefono? Sì Intanto è un no Che ragazzi Obeso di me Dammi tutto il telefono Non sto scherzando Quindi Il video finisce qua Ragazzi Il video finisce Un dislike Uno vai andando palestra Ragazzi adesso io vado Ciao ciao